E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. In vista di Cibarti Expo 2014, Fiera Nazionale dell'Artigianato Artistico e Agroalimentare in programma a Lecce dal 30 maggio al 2 giugno, Confartigianato ha sottoscritto con gli organizzatori una convenzione grazie alla quale gli associati interessati a disporre avranno diritto ad uno sconto del 20%. Per avere maggiori informazioni, contattare l'ufficio categorie provinciale.